La Camera di Commercio di Chieti promuove insieme alla Fondazione Luca Romano Onlus il progetto Sobriamente Impresa Socialmente Responsabile. Il progetto è stato presentato questa mattina. Sobriamente contraddistingue le imprese che intraprendono un percorso di responsabilità sociale negli ambiti della sicurezza sul lavoro, della tutela della salute del dipendente con particolare attenzione all'uso e abuso di alcol in ambienti lavorativi. Questa mattina alla presentazione Silvio Di Lorenzo, presidente della Camera di Commercio di Chieti, Francesco San Vitale, presidente della Fondazione Carichieti e l'architetto Giorgio Pardi della Fondazione Luca Romano Onlus. Sobriamente è un progetto di responsabilità sociale ed impresa. Viene infatti chiamato Sobriamente Impresa Socialmente Responsabile contro l'abuso di alcol perché vuole attivare una nuova politica azientale per prevenire i disagi che il dipendente lavoratore potrebbe trovarsi ad affrontare e quindi diciamo che lo sfogo potrebbe essere quello dell'uso e abuso di alcol all'interno nell'ambito lavorativo e quindi le conseguenze potrebbero essere disastrose. E per il lavoratore ma anche e soprattutto per l'azienda? Sì, per l'azienda perché prima di tutto entriamo nel tema appunto della responsabilità sociale di impresa e attuando una nuova politica azientale ossia quella di tutela della sicurezza del lavoratore attraverso una nuova figura che la fondazione Luca Romano mette in campo che è quella del consulente antinfortunistico e antistress viene tutelata la salute del lavoratore e quindi si innesca un nuovo ciclo per l'azienda ossia un lavoratore maggiormente tutelato comporta un ambiente di lavoro sereno e nello stesso tempo ottimizza anche la produzione dell'impresa.